Ehi la ciurma! Io sono Mazzatessa e ben ritrovato in un nuovo episodio di Book of Demons Questo albero lo sto sempre mosso Al vento Allora andiamo subito a vedere che cosa dobbiamo fare Unlock card slot non ci interessa quindi andiamo a picchiare la gente Che è quello che ci interessa Perché adesso è aumentato 18 minuti, very small Era 14, ne sono abbastanza sicuro Forse perché stiamo scendendo in giù O forse perché abbiamo fatto un update poco fa Non lo so Ah ok, mi illude sempre che devo aspettare delle robe invece no Allora Un drago, un drago che esplode E' andato Cos'è una? Pozione Ok Organ harvester Ok però che ho raccolto tutti quei cuoricini Cos'è questa roba? Ma E mi ha venerato ovviamente Chi è questa? Non mi piace per niente Ma Perché devono essere tutti in putrefazione qua? Qualcosa mi dice che c'è qualcosa di cattivo qua sotto che Mi vuole fare tanto male Ok Ok Non mi piace molto la situazione in cui siamo messi attualmente Oddio Don't smoke alone Ehi no 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 Tutto sta roba No E niente Fatemi andar via Che è successo? Mi liberi per piacere Ma ci sto facendo del danno? Ehi Mi lasci in pace per piacere Oh L'ho schivato a caso proprio Oppure lo scudo Ah Beh Buono Spongo Scrivato Ah della roba per il calderone Molto buono Ah qua c'è mister Putrefazione rapida Ma cosa Perché si trasforma? Ma non gli ho fatto niente Ah ok L'ho ucciso Ok vada giù anche lui Allora Sono Molto curioso Di vedere che cosa ci sarà dopo questo livello Visto che i nemici iniziano a ripetersi un pochettino Ho visto una libreria ma non l'ho aperta Mi dice Dove è vero questa libreria Forse è questo lato O no forse è in su Adesso vediamo A cosa si riferisce Non è questa perché non me la fa cliccare Vabbè pian pianino E Ma Ho anche in fretta magari Allora quello Spone dalla gente cattiva E ovviamente Nel dubbio io prendo il dono Ok L'ho venerati per fortuna Ma tutti i stiercieri perché? E poi Via 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 No è vero che non bisogna triggerarli Ma da chi sto prendendo danno scusatemi Adesso gli arcieri là sotto Eh attacca lui da solo Ok Ok Ma per me se devo battere il cuore Ed era velenosa Che cos'è sta roba? Ma perché non capisco Che cos'è quello affare Che continua a lanciare Quella roba marcescente Che forma Sembra un golem Boh E niente Mi ha avvelenato ovviamente Eh lascia un Così Ma lascia anche un Qualcosa Una fialetta Credo Ma è una di quelle Dell'altra pozione Che non uso Ma vedo Sapete che stasera Ho un po' di Fastidio agli occhi Sarà una stanchezza Accumulata Per tutto il giorno Che sto Davanti a un monitor Ma è quel Non lo voglio Perché c'è il tizio Ah ecco Andiamo a picchiarlo Direttamente Ma aveva uno di vita Porca miseria Ma ditemelo prima Credo di avere un punto Che posso spendere No Perché mi dice Un XP Ah no Swap set card Ok No ma non ci interessa Al momento Tu Crepaci Per piacere Dai ecco Quello scudine È odioso Perché tu ci spammi Ma se non sei preciso Ma basta Con queste frecce Legendary Bone Collector Basta E poi Non trigger Non trigger E niente Mi ha rallentato Oh Facciamo che E niente Ho detto Attiviamo Stavo per dire Attiviamo Da lontano Perché potrebbe esplodere Me ne sono esplosa Una in faccia Ma tanto noi abbiamo esplorato Oddio Ma Cos'è un crashone È crashato È crashato In tempo reale Cos'è successo Oddio What Really Really Ma Lo possiamo riavviare Steam Per piacere Steam Pronto Steam Cloud Si può usare Si può Vada 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 Non indugi Non indugi Per piacere Non indugi Che qui abbiamo Abbiamo un Book of Demons Da finire Eh Cioè Tra un attimo Uscirà al seguito E noi siamo ancora qua A picchiare I demoni I demoni I demoni Sì Ok Vada Enter town Speriamo che abbia salvato Dove eravamo Può darsi No Col Kaiser No No Non volevo Mi scusi Però mi segna anche Bookcase Quindi è qua vicino La bookcase Ah è appena Appena là dietro Basta però Per piacere Niente Dobbiamo rifarlo Tutto qua Ma chi è che Continua a spawnarci Tutta sta roba addosso Porca miseria Tira giù Qua Tira giù Qua Tira giù Qua Allora Una cosa per volta No Niente L'ho triggalato male Basta Ok Ma niente Dobbiamo rifare Tutto da zero Che sbatti Contatto di cavalierini Qua Ma perché poi È crashato È colpa sua Non è colpa mia Non ho fatto niente Io Sentite Cerchiamo di farcelo Un pochettino Più rapido Qua Ok Prendiamo un po' di danno Ma vabbè Va bene Dai Tanto Don smoke leone L'abbiamo già ucciso Una volta Uccideremo ancora un'altra Qua c'è uno stupido affare Solo non triggeriamolo Perché sennò Quindi niente Qua non riusciamo a fare Proprio nulla Grazie Fatemi un po' di spazio Per piacere No Tiriamo giusto Tizio Che magari fa Del danno Agli altri Ok C'è ancora un tipo Dietro Mi fate passare Per piacere Voglio uccidere Solo questo tizio Ok E il moon Il danno E niente Ovviamente Mi ha congelato Per piacere Per piacere Ve ne potete Ve ne potete andare A quel paese O prima non spawnava Così tanta Robaccia Oh ho resistito Al frizz Non so perché Ma l'ho fatto Questo video Mi sa che Diventerà Lungo Come la morte Probabilmente Non mi ha dato Il cosino Del Del Baule Lo so che Non hai bisogno Di bere Per piacere Tira giù Sta gente Il cavaliere Marce Scente Magari Non prendiamo Danno Così a caso Ma quanti cavoli Di cavalieri C'erano qua sotto Erano così tanti Anche l'altra volta Allora Gli alcieri Mi stanno rompendo Seriamente Poi ci muoiono Subito Però Allora Cos'è questa storia Via 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 Tutti Via Oh Ok Quello andato Mi spawnano I ragioni No C'erano i tizi sotto No C'era anche il ragione Crash Devo Niente Niente Proverò a passarlo Senza registrare Non so cosa dirvi Ragazzi Per questo episodio È tutto Ci vediamo Nel prossimo episodio Di Book of Demons Spero di riuscire a passarlo In qualche modo Senza Farlo crashare Ciao a tutti E buona serata O buona giornata Vi invito a lasciare un mi piace Un commento qua sotto E iscrivervi Per sperare di Sopravvivere Ciao a tutti Sopravvivere 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 Sopravvivere